Che profilo che... Che fai, ragazzi! Vai a vedere, oh! Fai, fai! Ha mangiato un anguia! La spalla destra di Mr. Moruzzi, come Cocchi Renato, Staglio Olio e Staglio... Le sue idee del calcio sono innovative, forse troppo, e per questo non vengono ancora comprese da tutti. Lui vorrebbe giocare con un modulo di Oronzo Canal 5-5-5 rivisitato da lui, lo 0-1-5. Sta di fatto che l'unica volta che la squadra viene affidata interamente a lui, nella storica trasferta di Turone, un'altra parte di un cuore sotto il diluvio su un campo ai limiti della praticabilità contro avversaria del poco rognosi, e dove tutti, da Michi a Giorgini o da Marco a Beni, offrono una gara pazzesca. Ora lo spettano avversari ben più duri, ma il nostro gran conoscitore divino è pronto. A lui, il vero allenatore, eh! Voto 10! Vela! Super manno! Grazie mille!